Ecco, Forum di Roma 2022, siamo con Chiara Braga, Commissione Ambienti della Camera dei Deputati. Quanto è importante parlare di economia circolare in una fase globale in cui c'è una corsa sfrenata alle materie prime a causa del conflitto in Ucraina? Ma sicuramente l'economia circolare può essere una parte della risposta che noi dobbiamo costruire. Un paese come il nostro che ha poche materie prime, che dipende dall'importazione, ma che ha grande potenzialità di recupero e valorizzazione gestendo in maniera efficiente tutto il ciclo dei rifiuti, dalla raccolta differenziata alla dotazione di impianti tecnologicamente avanzati che ci possono consentire di recuperare materia attraverso lo strumento del Land of Waste e naturalmente anche puntando attraverso i progetti faro finanziati dal PNRR sulla capacità di intercettare quelle frazioni di materia e di rifiuti speciali ancora poco valorizzati fino in fondo. Quindi è un momento in cui le ragioni dell'economia circolare sono ancora più forti di prima e ragionare insieme a tante voci e a tanti interlocutori come ci invita a fare Lega Ambiente è sicuramente un'occasione preziosa anche per il legislatore. Le imprese ci sono, al Mite sono arrivate migliaia di proposte per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti. Ora tocca alla politica, alle istituzioni dare delle risposte concrete. Sicuramente la risposta molto positiva che c'è stata sul bando emesso dal Mite con i fondi del PNRR dimostra che c'è una consapevolezza e anche una capacità progettuale delle imprese. Ora si tratta di essere rapidi nell'assegnazione delle risorse ma anche delle autorizzazioni, il vero tallone d'Achille che molti ancora ci segnalano e riuscire a usare davvero queste risorse per potenziare, migliorare, innovare i sistemi di raccolta e soprattutto dotare territori che oggi sono ancora fortemente carenti di impianti moderni ed efficienti per gestire al meglio il ciclo dei rifiuti. Grazie.